Ristoratori, siamo giunti alla fase finale di questa nuova puntata di tre ristoranti. Ma non era quattro? Non mi contraddire, siete tre, facciamo tre ristoranti, perché l'ultimo che mi ha contraddetto non si è ritrovato più, la cappa nella cucina. Tu la vuoi trovare la tua cappa? Anche tu? Eppure tu. Questo non è un buon inizio. Cominciamo con il piatto che vi darà 5.000 euro. L'insalata broccolata di fungo dell'Himalaya. Questo broccolo nuovo, appena colto dalla terra, insieme a questo fungo. Questo fungo cresce sotto l'albero del cincillà. Sotto sto casino per l'insalata? Può essere un'insalata, ma comunque è un'insalata di gusto. E non contradditemi, perché io posso sempre confermare o ribaltare il risultato. Come i sali? Ristoratori? Oh! Un nostro peperone.